Torna Pesaro nel cuore, il caldo natale della città di Pesaro. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, eventi, concerti, spettacoli che scalderanno il cuore di tutti. I tipici mercati di Natale, il trenino Wii Pesaro Express, il villaggio di Babbo Natavis, l'albero più illuminato d'Italia e tante altre sorprese ti aspettano nel centro storico della città di Pesaro. Ah, dimenticavo, vieni a scoprire e fotografare la grande novità, i portali luminescenti del Natale. In collaborazione con Buattini concessionari a Hyundai, Kia, Xev e Fantic, Climatec, specialisti in riscaldamento e climatizzazione, Reactive Fitness Club, la tua palestra a Pesaro e ad Urbino, Famila, con noi sei famiglia.